Da San Giorgio delle Pertiche alla stazione di Padova per spacciare psicofarmaci che possono essere venduti esclusivamente dietro presentazione di prescrizione medica. Arrestato dai carabinieri, un 27enne dell'alta Padovana sorpreso con 10 compressi di diazepam medicinale che viene spacciato agli assuntori di droga in alternativa agli stupefacenti, spesso per placare l'ansia o le convulsioni o per alleviare l'agitazione dovuta all'astinenza di alcol. Le pastiche sono state sequestrate mentre il 27enne nigeriano, residente a San Giorgio delle Pertiche è stato portato in caserma.